Si tiene oggi il Consiglio Comunale in sessione straordinaria. Qui accanto a me il consigliere Oronzo Castellano. Quali sono i punti di cui oggi discuterete? In realtà è la prosecuzione del Consiglio di martedì scorso e oggi siamo chiamati a discutere due punti. Uno di carattere tecnico e in particolare il regolamento di contabilità che disciplina un po' le modalità di svolgimento del bilancio e di tutte le attività connesse. Ma mi piace ricordare oggi anche un importante punto che discuteremo nell'interesse della città e sarebbe il baratto amministrativo, cioè quel procedimento mediante il quale i cittadini più bisognosi in difficoltà possono scambiare, barattare una prestazione in favore della nostra città per il miglioramento del decoro dei nostri ambienti, dei nostri spazi, delle nostre strade, usufruendo di esenzioni o riduzioni di sgravi di alcuni tributi. E' un segno importante, un segno di vicinanza alla cittadinanza, soprattutto in ottica di quella che è la partecipazione del cittadino e soprattutto di quelle classi più disagiate, che mediante il baratto amministrativo possono sentirsi utili, possono essere coinvolti in quello che è il miglioramento della nostra città. Quindi questo vuol dire rendere i cittadini una parte attiva? Certo, certo. Farsi soprattutto che quella gente che per una particolare congettura economica, voglio pensare disoccupati, pensionati, sono in grande difficoltà e per i quali anche il pagamento di un contributo comunale, di una tassa comunale, dimetterebbe in serie difficoltà, così possono essere coinvolti, così possono essere valorizzati, così possono dare un concreto contributo al miglioramento, all'abbellimento del nostro territorio. Con il sindaco della città di Altamura, il professor Giacinto Forte, quali sono i punti all'ordine del giorno? Oggi due punti importanti. Il baratto amministrativo che darà la possibilità a coloro i quali non hanno le possibilità per pagare tasse nella nostra città, di poter svolgere dei lavori socialmente utili e non pagare appunto tasse come l'immondizia, come l'IMU. L'altro aspetto è un aspetto prettamente burocratico della città, che riguarda l'aspetto economico della città, quindi un regolamento anche questo che va assolutamente votato. Non abbiamo scadenze, ma dovremmo portarlo a termine anche stasera. Non abbiamo scadenze, ma dovremmo portarlo a termine anche stasera.